Mi dicono che Gotham non ha più bisogno di me, che è diventata un posto sicuro. Ed io mi ritrovo da due anni a questa parte a non avere niente da fare. Dimenticato, abbandonato, messo da parte. Ci sono tante altre città, città come questa, che hanno bisogno di me. Voglio ancora essere utile, voglio ancora sconfiggere il male che serpeggia nel mondo. E voglio che tutti sappiano che il vostro Cavaliero Scuro è sempre qui per voi, per proteggervi. Ed è per questo che io... Stop! Stop, 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 stop. Guarda? Segna. Merda! Ma scusa, ti ho detto, fai periodi brevi, si è conciso. Ma chi me ce l'ha mandato a me questo qua, no? Capite? Non mi devi toccare a me il copione. Grazie. Regna. Grazie. Grazie.